Questa cosa è? Un'uovo! Che ti lo fa l'uovo? Tu lo fa! Noi dallo! La gallina! E quante ne fa al giorno? Una! Bravissimo! Hai le galline a casa? Si ce l'avevo! Dopo le fritte... Dopo le fritte... Ok adesso prendiamo un uovo Un uovo per ogni cittadino Quindi decidete insieme chi deve rompere l'uovo E abbiamo svegliato Una alla volta Dobbiamo svegliarlo Così? È chiaro